ciao a tutti da biosport benessere oggi volevo parlarvi di questo mio prodotto top è uno dei miei prodotti preferiti nella routine quotidiana è della dottor organica bioctib skin care come vedete a base di aloe vera gel ma la cosa importante oltre all'aloe vera è che contiene tetri oil ed arnica voi dite quindi a cosa ci serve questo affare allora io lo uso principalmente per problemi di follicolite una volta quindi che avete fatto la vostra rasatura depilazione epilazione silpita bla 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 e volete evitare il problema della follicolite alle gambe prendete e lo applicate vi fate una doccetta e lo applicate sulla pelle delle gambe se avete gambe se che vi consiglio di mettere questo su una mano in base al quantitativo che vi serve base a quanto siete lunghe e ci mettete insieme sempre sulla mano la vostra crema corpo che usate per le gambe mescolate sulla mano anche in modo da emulsionarli insieme e li andate ad applicare alle gambe vi ricordo che per avere un'azione per contro la follicolite questo dovrà essere in un quantitativo superiore rispetto alla crema un esempio io metterei un per fare una percentuale un 80 per cento di questo e un 20 per cento di crema poi dipende anche dalla vostra secchezza da come siete abituati dal tipo di follicolite di cui soffrite più soffrite le follicolite e più vi consiglio di andare soprattutto dopo la depilazione o la rasatura prima con questo qui perché mettendo una crema non andate a fare bene al bulbo pilifero o al micro taglietto creato dalla depilazione dalla rasatura in quanto la crema va sempre ad attappare i pori capito invece questo prodotto vi va a disinfettare perché il tetri oil non c'è tanto per sentito dire qui dentro c'è effettivamente tanto e vi va a disinfettare le gambe infatti sentirete che se ci sono micro taglietti frizzerà un po ma ve lo disinfetta veramente e applicato sempre in base al tipo di follicolite di cui soffrite che ne so per una follicolite è abbastanza importante ve lo consiglio un giorno sì un giorno no o magari anche due giorni di seguito poi stoppate uno e fate dopo un altro giorno però quelle scusate per la tosse ma le prime freddure e vi consiglio vivamente di fare quelle due tre applicazioni poi se vedete che dopo due applicazioni vi esce solo qualche brufoletto qua e là che riuscite a localizzare potete andare a prendere il prodotto ve lo mettete sul dito e massaggiate solo sul brufoletto perché ha la proprietà di andare a seccare il brufoletto e a far sì che non si formi quel maledetto pus un'altra applicazione che si può anche capire da quello che vi ho detto poco fa è se avete dei piccoli taglietti che ne so con la carta uno sfriccio o qualsiasi altra cosa ci applicate questo e l'azione antibatterica e lenitiva perché ricordiamo sempre a base di aloe quindi l'aloe ha ottime proprietà per la nostra pelle insieme all'arnica che ha anche essa ottime proprietà perché è un rigenerante per la nostra pelle oltre che essere usata a livello di distorsioni queste cose qua ma quella è l'arnica a pomata fatta apposta per quell'indicazione quindi non è che questo vi salva dalle se avete fatto una distorsione adesso non forbiamo e comunque questi prodotti contenuti fanno bene quindi se avete micro taglietti quelle scottature quelle sapete che appena che vi tocca una cosa che vi fa subito la stampa della scottatura quindi non deve essere roba profonda che ha bisogno di medicina serie dottori e quant'altro ma è un piccolo kit per le piccolezze di ogni giorno si può usare sul viso allora io l'ho usato sul viso però bisogna stare attenti se avete una pelle secca lui ve la secca perché la sua funzione è quella purtroppo il tetri oil quel lavoro fa come potete fare mettete sempre un goccino di crema e questo perché perché dite ma perché me lo devo mettere sul viso a volte può succedere che la pelle un po più grassa un po più impura e avete bisogno che perché magari vi stanno per uscire tutti i brucoletti in giro per il mondo di un prodotto da stendere che vada disinfettarli bloccarli magari si offrite anche di dermatite sul viso e a voi o sui capelli e a volte vi scende sul viso formano quelle piccole pollicine parlo sempre di cose molto limitate altrimenti per il resto ci sono le medicine e allora che fate prendete applicatelo ma non applicatelo puro ma con una buona quantità di crema viso a meno che non avete una pelle grassa in quel caso allora potete ridurre la quantità di crema viso e mettere questo o se la pelle è grassissima tipo quella di un uomo quant'altro potete anche andarlo applicare così ovviamente evitate il contorno occhi perché irrita in quanto c'è tetri oil e tutto il resto quindi non contorno occhi che è una parte molto delicata state bene alla larga perché se non vi possono anche bruciare un po gli occhi per i baffetti se avete follicolite da baffetti fatta la ceretta potete andarlo ad applicare ma vi consiglio sempre di applicarlo non purissimo ma mettendoci uno strato che è ad esempio di olio di carite quindi uno strato che vada a nutrire la pelle e a proteggerla dall'aggressività che può avere il dottor organic perché in questo caso questo dottor organic che mi raccomando deve essere aloe vera con tetri oil ed arnica perché se non c'è anche quello con tetri oil ma non ve lo sconsiglio non non mi ha fatto per niente innamorare quindi deve essere fatto così e quindi è andata ad applicare con un leggero strato di olio di una crema molto delicata sempre perché mettendo creme sulla follicolite poi una volta che invece perché tanto non è che non ve li fa uscire ve li previene di molto ma se avete una follicolite molto forte qualcuno uno due microscopici vi usciranno in quel caso che fate prendete sac prodotto sul dito e andate direttamente sul brufoletto oppure per chi avesse proprio i brufoli non da follicolite ma di suo sul viso prendetelo applicate con dito o con cotton fioc e andate proprio lì a distillarlo sul brufoletto oggi domani sto brufolo vedrete che si asciuga e il pellico direte oddio adesso mi rimane il ponfetto no date il tempo che si riassorbe si ribada a riassorbire ma una volta che l'avete visto asciutto non andate più a caricare con questo perché poi farà da sé la pelle perché gli irritate una crema elasticizzante tutto quanto e torna a posto che altro dire scusate se mi sono diluncata tantissimo su questo prodotto ma è veramente il mio salva vita quotidiano l'ho fatto provare anche al mio ragazzo per problemi di pelettine sapete la barba quant'altro se applicato sui brufoletti creati dalla rasatura della barba anche lì ha un buon risultato ha un buon risultato anche se dovete desinfettare le unghie rafforzare le unghie sia delle mani che dei piedi perché avendo dentro il tetri oil questo è un ottimo antibatterico quindi ve lo consiglio una bottina ogni tanto non fa male proviene perché il tetri oil è un ottimo antifungino certo qui non ce n'è una fortissima quantità se volete proprio che avete problemi di funghi dovete prendere proprio il tetri oil ma per una cosa preventiva di disinfettata magari avete mangiato o tagliato un'unghia troppo corta e vi brucia questo fa a caso vostro perché ha anche il tetri oil oltre che vabbè tutte le proprietà che sapete dell'aloe una funzione cicatrizzante quindi nelle piccole quotidianità vi aiuterà molto scusate per la voce ma purtroppo come vi ho detto sono influenzata e spero che il video vi sia stato utile ciao alla prossima da Biosport Benessere